Mi chiamo Valeria Margherita Mosca, sono una forager e una ricercatrice ambientale e dirigo Wooding Wild Food Lab, un laboratorio che si occupa di sostenibilità alimentare e cooperazione con l'ambiente. Per me in primo luogo sostenibilità significa essere supportabili all'interno di un sistema in cui siamo immessi, quindi significa essere coscienti, essere responsabili di un sistema che vive ed è intorno a noi. Le tre parole chiave che leggo inesorabilmente al concetto di sostenibilità sono sicuramente osservazione, osservare per comprendere e capire più a fondo, responsabilità, quindi sentirsi responsabili di quello che accade e esiste intorno a noi e poi sicuramente il concetto di coscienza, quindi essere cosciente di ogni nostra scelta o azione. Sono Olga Pirazzi e mi occupo del progetto di Fashion Best di Città dell'Arte e Fondazione Pistoletto. Sostenibilità per me significa una grande possibilità di creare consapevolezza per un cambiamento. Per me le tre parole chiave per la sostenibilità sono trasparenza, responsabilità ed equilibrio. Ciao sono Chiara Tronville, sono donna, mamma di Carlo e Flora e giornalista. Con il mio lavoro cerco di dare voce al cambiamento positivo che stiamo vivendo nella moda. Sostenibilità per me significa vivere in maniera più armonica rispetto alla natura e all'ambiente che ci circonda. Tre parole che per me hanno particolarmente rilevanza e che sono il pianeta, le persone e il profitto, nel senso che lontano da integralismi e decrescita infelice, io penso che dobbiamo ripartire in maniera onesta e trasparente a costruire dei business che siano di per sé già in base, alla base sostenibili economicamente. Ciao sono Orietta, Orietta Pelizzari. Io mi occupo di, possiamo dire, chiamarle relazioni internazionali, connector, international connector. Per me sostenibilità è onestà, onestà intellettuale, onestà sociale e e onestà artigianale, crafting, ma anche onestà industriale. Mi sembra proprio che la parola onestà sia la giusta evoluzione della responsabilità. Le parole chiave che mi vengono in mente pensando alla sostenibilità sono sicuramente responsabile, onesto, vero. Il concetto di sostenibilità è cambiato quando abbiamo compreso che un punto culturale è cultura, la cultura del bello, la cultura del benfatto, la cultura del rispetto, la cultura del heritage. Se io ho cultura del fare, sarò onesto con chi crea, con chi produce, con chi progetta, con chi vende e anche nei confronti del mio consumer. Sono Giorgia Cantarini, signora editor dell'Officiali Italia e responsabile del progetto Sustainable Style dedicato alla moda sostenibile di Pitti Immagine. Se penso alla sostenibilità, penso al rispetto per gli ambienti, per gli altri e per gli animali. Tre parole chiave per la sostenibilità sono sicuramente non inquinante, etica e tecnologica. Nessuno comprerà moda sostenibile solo perché è sostenibile, ma ci deve essere anche un contenuto di stile. Quindi la sfida è unire la sostenibilità allo stile. Sono Cosetta Giorgetti, makeup artist, fondatrice di Corgani Skincare, una start-up green di skincare organico. Per me la sostenibilità è la consapevolezza a 360 gradi. Dobbiamo essere consapevoli ad ogni gesto che compiamo dalla mattina quando ci alziamo e la sera quando ci corichiamo. Dal micro noi arriveremo ad un macro. Le tre parole chiave per la sostenibilità sono consapevolezza, amore e passione. Il concetto di sostenibilità è cambiato perché oggi dobbiamo per forza guardare in faccia la realtà e il nostro pianeta ci racconta che la nostra non curanza ha fatto sì che implodessimo in una condizione drammatica come questo momento. Per cui oggi non possiamo più far finta di niente. Per cui questo è il grande cambiamento, la consapevolezza che dobbiamo avere totale, tutti.